chi ha inventato la pizza e questa la domanda che abbiamo fatto alle persone sentiamo cosa hanno risposto napoletano ma non so che in italiano penso proprio a napoli non lo so so che comunque è nata da napoli ha inventato la pizza raffaele esposito un noto pizzaiolo napoletano nel XVI secolo